Fisicamente non sono certo il più dotato. La differenza la fa la voglia, la fame. Lance, giusto? Hai vinto tutte quelle corse in America, no? Ma qui non vincerai. Dottor Ferrari, io voglio essere come uno dei suoi. Voglio fare qualunque programma faccio. Mi dica cosa devo fare e lo farò. Questa è scienza. Non più confinati sulla Terra, abbiamo imparato a volare. Ma ho fatto l'intervista a Armstrong oggi. A me piace solo andare in bici. La convinzione non gli manca. Si è ripreso da un tumore e si è trasformato in Superman. Perché sei così ossessionato? Perché tu non sei ossessionato. Il tuo compito è proteggerlo. Ok, certo. Il bar è aperto. Quando direte non ce la faccio più ad andare avanti. Dite invece, sto volando. Lance Armstrong, ispiratore di milioni di persone, non può essere un bugiardo, altrimenti questo farebbe vedere a tutti che il mondo è una montagna di merda? Lance. Forza, forza, spremila. Hai mai fatto visita a Michele Ferrari? Posso avere un sì o un no? Accusa infamante. Vanno accompagnate da prove certe. Non sono mai risultato positivo ad alcun controllo antidoping. Io sono l'atleta più controllato di questo pianeta. Io non sono mai risultato positivo ad alcun controllo antidoping. Un tempo ci credevo in questo sport e Lance Armstrong lo sta uccidendo. Mi piace quando qualcuno vuole andare più veloce di me. Senza offesa, so che il tuo fanciullo ha barato. Quante volte lo devo ripetere? Io non sono mai risultato positivo ad alcun controllo antidoping. Vendi le bici per pagare il doping. Seguiamo tutti il programma. Io non ho firmato per questo. Sai contro chi ci stiamo mettendo, Alex? Querela Walsh? Io ho i soldi e il potere per distruggerti. Non ci possiamo censurare. È troppo importante. Io voglio confessare. Io sono Lance Armstrong e nessuno mi rovinerà.